Ciao a tutti e bentornati alla sezione tutorial del sito swiftios.it In questo veloce tutorial vediamo come permettere all'utente di votare la nostra applicazione. Diciamo che prima era un po' più complicato perché bisognava crearsela da sola mentre adesso Apple mette a disposizione una classe che ci permette di fare apparire quella comune view, quella comune alert che permette all'utente di dare un voto sia tramite le stelle sia inserire proprio un commento a testo. Per implementare questa funzione è molto semplice, si importa la libreria store kit, ovviamente il tutorial l'ho iniziato creando un nuovo progetto, un semplice nuovo progetto single view, quindi ho importato questa libreria, l'ho richiamato questa libreria di Apple dove ci sono vari SD, ad network, ad service e altre librerie che vengono richiamate richiamando lo Stonic Kit ma vediamo come semplicemente richiamare la nostra pop-up di richiesta recensione, basta richiamare nessun backup, ok, ok, lo S, SKS, Review Controller e la proprietà Request Review, quindi richiesta di commento. Se noi rilanciamo il nostro esempio, vedete ecco qui che in automatico, senza doverla creare, configurare, in automatico appare la classica pop-up dove l'utente può inserire le stelle, ovviamente adesso non essendo in linea, non essendo online l'applicazione non ce lo permette, ci può farla votare ed eventualmente aggiungere una recensione all'applicazione. Cosa bisogna dire? Bisogna dire però che questo richiamo, adesso noi l'abbiamo fatto nel guide della load della view principale, può essere, o meglio, appare massimo tre volte per ogni versione dell'applicazione, che vuol dire che se noi adesso lo lasciamo così, appena l'applicazione viene aperta dall'utente, viene visualizzato questo alert. La rilanciamo altre due volte, dopodiché non appare più. Ovviamente inserirla all'interno del guide della prima view non è consigliato, in quanto ovviamente se io scarico un'applicazione non mi puoi chiedere subito, appena aperta, già una recensione o un voto. Quindi non sarebbe produttivo per l'applicazione stessa. Quindi bisogna collegare questo richiamo a un evento, oppure dopo tot giorni, o dopo tot, diciamo, gesti o movimenti fatti dall'utente durante l'applicazione, perché almeno l'utente magari sarà più invogliato a darvi un voto e non a chiudere la pop-up. Quindi possiamo, per esempio, nei giochi, visto dopo tot periodi, ci appare questa view di richiesta voto, oppure dopo aver effettuato tot operazioni possiamo farla apparire. Quindi per ogni versione che noi pubblichiamo apparirà tre volte massimo questo alert. Per esempio, posso farvi un esempio, possiamo vedere adesso un esempio, come collegare l'apertura della pop-up dopo, per esempio, tot lanci da parte tot lanci dell'applicazione stessa. Quindi, che ne so, dopo che l'utente avrà aperto l'applicazione, che possiamo impostare noi dopo dieci, venti, cinque volte, magari, facciamo apparire la pop-up di richiesta voto. Per farlo, per esempio, in questo esempio, possiamo creare un nuovo file, creeremo un tipo file di tipo Swift, e faremo una singleton. Se non vi ricordate cos'è una singleton, vi invito a rivedere la playlist sul corso iOS. Quindi, possiamo richiamarla recensione, per esempio, recensione, utente, perfetto. Quindi ci spostiamo al suo interno, in questo caso importiamo lo UIKit e importiamo la libreria, che abbiamo visto prima, la StonetKit. Dopodiché, creiamo una classe, la che abbiamo detto la chiamiamo recensione utente, non la eredita nessun'altra classe. Dopodiché, la facciamo diventare singleton, quindi vi ricordate, Static, StaticElet, Shared, Shared è, ricordiamoci, una variabile, o meglio, una costante in questo caso, scelta, ma solitamente si usa Shared, condivisione, quindi recensione utente, e richiamiamo la classe stessa. Dopodiché, che cosa faremo? Per esempio, abbiamo detto, possiamo impostarla, dopo tot lanci dell'applicazione facciamo apparire questo alert, quindi faremo una variabile, possiamo chiamarla lanci, quindi dopo, che ne so, dopo 5 lanci, facciamo due, almeno quando lanciamo l'esempio, facciamo prima, e creeremo la nostra funzione, la chiameremo, richiesta, richiesta, recensione, o anche, per la più colta, voto, come parametri, nessuna, e di ritorno, nessuna, quindi è una classe void. Come possiamo impostarla? Dobbiamo avere la possibilità di tener conto di quante volte l'applicazione è stata aperta, quindi, il modo più semplice è creare una user default, quindi potremmo creare una user default, default, standard, object, 4K, la potremmo chiamare, per esempio, numero, numero, lanci, quindi, è una variabile che conterrà il numero di lanci. Dopodiché, però, faremo che, inseriremo in un if questo lanci, quindi dobbiamo controllare all'inizio che, se è la prima volta, quindi appena installata la nostra applicazione, sia diversa da nil, quindi, cosa vuol dire? Che, se lui prova a recuperare la user default con nome e numero lanci, che però, essendo la prima volta che ha aprire l'applicazione, ovviamente non la trova, quindi sia diversa da nil, fra delle operazioni, altrimenti, quindi, se non la trova, imposterà la user default, standard, set, vi ricordate, per scrivere bisogna usare il set, value, bene, quindi faremo, imposteremo a 1, e, come chiave, ovviamente la chiameremo, la proviamo da sopra per non sbagliare, la chiameremo numero lanci, quindi, se è la prima volta che l'utente apre la nostra applicazione, non trova questa variabile numero lanci, non usa il default, e quindi va nell'else e l'imposta 1, perché è la prima volta che viene aperta, e viene anche creata, in contemporanea, la variabile numero lanci. A questo punto andiamo a lavorare, sull'if, quindi, se l'utente, se diciamo, scusate, la variabile numero lanci esiste, quindi è diversa da nil, faremo che, recuperiamo intanto, il valore, il valore sarà, user, chiameremo user default standard, integer, perché ovviamente è un numero intero, da quale chiave, appunto la chiave numero lanci, quindi ha recuperato il suo valore, facciamo un print dopo per verificare valore, quindi valore uguale, alla variabile valore, quindi è solo per noi per vederlo in console, dopodiché aggiungo a valore uguale a più uguale a 1, quindi aggiungo il valore attualmente recuperato, cioè aggiungo 1, e controllo, faremo un controllo appunto sul valore, perché se il valore è maggiore o uguale a la nostra variabile lanci che abbiamo impostato, cosa fa? richiamiamo, azzeriamo intanto user default, user, lo riscrivo sempre, almeno ce lo ricordiamo, user default punto standard punto set, lo scriviamo, any, quindi, se lui ha raggiunto il valore che abbiamo impostato, deve resettare il valore, quindi lo riporta a 0, sempre per la variabile, tipo stringa, numero lanci, quindi lui, se questo valore, aggiunto di 1, supera o è uguale a lanci, lui lo mette a 0, lo riporta a 0, e in questo caso, richiamiamo, request view, richiamiamo appunto l'up of up, quindi lui ha raggiunto il valore che abbiamo impostato, fa vedere l'up of up, anche qui dobbiamo inserire un else, perché? perché se non l'ha raggiunto, quindi esiste, ma non ha raggiunto il nostro valore, o superato, quindi non supererà mai il nostro valore, però è meglio sempre prevenirlo, lui usa il default, dobbiamo questo sotto, per fare prima, user default, lo imposta, non a 1 in questo caso, ma al valore di valore, quindi ricapitoliando, abbiamo creato una classe singleton, abbiamo fatto diventare singleton, abbiamo creato una funzione di richiesta modo, dove lui cerca di recuperare un user default standard, quindi una variabile chiamata numero lanci, che se risulta nil, quindi la prima volta che viene aperta l'applicazione, lui aggiunge 1 al valore di numero lanci, nelle successive lanci dell'applicazione, lui che cosa fa? non la trova più nil, quindi rientra in questo if, recupera il valore della variabile, dopo di che aggiunge 1 al valore della variabile, e controlla se questo valore è maggiore o uguale al valore da noi impostato in questa variabile, se è uguale o maggiore, lui riporta a 0 il conteggio, fa vedere la pop-up, e poi esce, nel caso invece questo valore non sia maggiore o uguale al lanci, cioè al valore da noi impostato, va nell'else e aggiunge 1, e scusate, aggiunge il risultato di valore, quindi in questo caso, diciamo finta che è entrato qui, diventato 1, il secondo caso, se noi abbiamo impostato 3, nella seconda volta che apre questo valore da 1, più 1 uguale 2, quindi non è né uguale né maggiore, quindi va nell'ex, e qui segna 2, il terzo lancio risulta uguale al lanci, quindi esegue l'operazione di azzilamento, e richiama la pop-up, riportiamo a 2 per far vedere più velocemente nell'emulatore, dopodiché l'unica cosa che ci resta da fare, è tornare nel view di reload, non richiamare più direttamente lo stoner kit, ma richiamare la nostra singleton, quindi come si fa? si richiama direttamente, essendo una singleton, la nostra classe recensione utente, quindi, vedete, adesso ci risulta essendo una singleton, quindi vi ricordate la differenza tra singleton velocemente, ossia la singleton è sempre attiva, quindi la possiamo richiamare direttamente, mentre una classe normale, dobbiamo prima creare un'istanza, una variabile, e poi interagire con le proprietà, e i metodi all'interno della classe, così facendo noi richiamiamo la variabile shared, che era quella che contiene la singleton, e andiamo a interagire, vedete, direttamente con la classe, il metodo richiesta vuoto, quindi, quindi, lasciamo, vabbè, lancio a 3, era 2, mettiamo 3 che è meglio, per rendere meglio l'idea, quindi, se adesso noi, rilanciamo la nostra applicazione, vediamo, col primo lancio, non appare più, la pop-up, non appare neanche il valore, perché è andata a finire nel let's, quindi è impostata a 1, quando il nostro utente rilancia la seconda volta all'applicazione, vedete, il valore diventa 2, perché 1 è impostato qui, è entrato qui, l'ha aggiunto 1, è diventato 2, è andato qui, e non appare la nostra pop-up, al terzo lancio, quindi il valore dovrebbe diventare 3, dovrebbe apparire la nostra pop-up, eccola, infatti, che appare la nostra pop-up di richiesta vuoto, e ha impostato il valore a 0, infatti, se noi, lo rilanciamo, vedete, ha impostato a 0, poi lo aggiunge, a questo giro aggiunge 1, quindi è diventato 1, quindi per 3 volte, ogni 3 volte, scusate il giro di parole, il nostro utente aprirà l'applicazione, gli verrà presentata, questa pop-up per la richiesta del voto, ovviamente 3 lanci sono pochi, facciamo impostate, non lo so, una ventina, 25, vedete, voi a seconda della vostra necessità, ovviamente, ripeto, questo è uno dei tanti metodi che potete utilizzare, ma ovviamente, ovviamente, potete, vincolare questa apertura di questa pop-up con altri eventi, quindi, come dicevo all'inizio, dopo 8 giorni, dopo 8 operazioni, a verificarsi di un evento, ovviamente, ci sono svariate alternative, a seconda, appunto, delle vostre necessità, e cosa voi ritenete più giusto, l'unica cosa che mi preme di ricordare, ovviamente, non fatela apparire subito, in quanto date il tempo all'utente, di valutare la vostra applicazione, e poi, fate in modo che, quando appare la pop-up, l'utente si è invogliato, a rilasciare una recensione, o, quantomeno, un voto tramite le stelle. Bene, anche per questo tutorial è tutto, vi ricordo che per domande o chiarimenti, potete visitare il sito swiftios.it, o commentare questo video, se il video vi è stato utile, potete lasciare un mi piace qui sotto, e magari iscrivervi al canale, per rimanere aggiornati, sui prossimi tutorial, o lezioni. Grazie, e buona programmazione a tutti. Grazie.